ciao amici dato che qui è ora di merenda ho deciso di parlare dei cibi che preferisco ci ho pensato sapete perché? perché ieri il corvo ha rubato il pane alla volpe Miriam e Miriam ci teneva così tanto al suo pezzo di pane che ha fatto di tutto per riprenderselo io invece avrei lasciato stare il corvo e non sarei mai stata così astuta come Miriam perché le grandi idee vengono solo quando si tiene davvero a qualcosa mentre io al pane non ci tengo per niente preferisco di gran lunga le noci buone le noci intendo le noci le noccioline le nocciole le ghiande le mandorle le arachidi gli anacardi alcuni dei cibi che ho nominato sono semi altri sono frutta secca si possono mangiare così appena uscite dal bucio oppure si possono tostare a volte le mangio con il sale ecco il pane lo mangio con le noci sopra o con le noccioline le nocciole le ghiande le mandorle gli arachidi degli anacardi beh mi piacciono anche le castagne mi piacciono le esse abbrustolite fare la conserva oppure glassarle con lo zucchero in questo caso però si chiamano marocasse o riempirle di panna e meringhe per farne un buonissimo mont blanc poi non so se ve l'ho detto mi piacciono proprio da impazzire le noci le nocciole le noccioline gli ande le mandorle le arachidi e gli anacardi sì forse ve l'avevo già detto ciao amici arrivederci eh al prossimo vlog e mi raccomando non si parla con la bocca piena ciao ciao